Ti trovo fuori luogo, proprio fuori luogo. Ma tu mi hai messo fuori luogo adesso tirandomelo fuori facendomi passare come uno che non si fa i c***i suoi. Sì, perché secondo me sono arrivato da così poco che hai parlato troppo tempo di me in relazione al tempo di cui sono arrivato. Cioè, veramente, se hai parlato troppo, a questo punto è normale pensare che non ti sto bene e vuoi chiappare e mandarmi fuori e alganciarti a tutto per mandarmi fuori. Io dico quello che penso. Dai, dai, su. Poi se tu non hai il coraggio di dire quello che pensi, se te... Ma si tratta di non avere il coraggio, si tratta di essere qui a fare l'allievo, a imparare, ad avere il rispetto dei ruoli delle persone che sono qui. Ma tu non sai neanche cos'è. Ma cosa? Ma tu non sai il rispetto cos'è. Ma di cosa stiamo parlando? Secondo te il rispetto è andare a dire un pro che non sa fare il suo lavoro. Ma ti rendi conto? Ma di che stai parlando? Guarda, veramente. Che ha detto che non sa fare il suo lavoro. Eh, cosa stai dicendo? Prima hai detto che io non batto nessuno, lui mi prende, quindi vuol dire che non capisce niente. Poi, mi dici che mi deve eliminare, ma non mi elimina, quindi sta facendo male il suo lavoro. Questo cos'è? Avere il rispetto del suo ruolo? La stai girando come vuoi tu. Eh, va bene. Io sto semplicemente esprimendo. No, ti devo dire, ogni volta con il sorriso, oh grazie per questa tua opinione che io non condivido, però dai andiamo avanti. Cosa te ne frega del mio parere? Di quello che esce, cosa te ne frega? Cosa me ne frega? Siamo qua dentro, siamo in 10-15, devo vivere con uno che continuamente non perde mai l'occasione per dirmi che sono scarso. Cosa te ne frega?